Allora Pietro, siamo pronti? Sì, sì, sabato 30 novembre, vicino. E cosa c'è il 30 novembre? Beh, la... È la giornata nazionale della colletta alimentare. Devi andare in i supermercati che adegiscono all'iniziativa. Devi prendere la scatola. Rimpirla bene bene e fare la spesa per chi ne ha bisogno. È un gesto di solidarietà verso i più poveri, promosso dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Perché se ognuno di noi può dare una mano, che fai di tiro indietro? È bravo Pietro.